signora scusi lei è un'ippo mamma? sì di chi? mamma di chi? Alessia Muzio di dove siete? Peschiera Borromeo da quanto tempo è che monta Alessia? otto anni però è un grande sacrificio un bel impegno? di più di più cos'è che è più impegnativo ci racconti? l'impegno nostro è tutti i giorni perché lei va tutti i giorni e passiamo quelle 3-4 ore in maneggio il suo impegno è che va anche bene a scuola perciò oltre l'agonismo va bene anche a scuola ecco ma questo il fatto di montare a cavallo è un premio per il fatto che va bene a scuola oppure lo farebbe in ogni caso? no è la sua passione è proprio una cosa che lei ha dentro no se non va bene a scuola no io glielo toglierei però purtroppo non posso neanche toglierlo perché va bene e finora ha avuto dei bei risultati? allora devo dire con i poni non tanto adesso che siamo passati al cavallo sta cominciando a avere dei buoni risultati quindi questo concorso come sta andando signora? benissimo adesso stiamo aspettando la classifica della 15 e vediamo allora in bocca al lupo signora come si chiama il cane? Pongo ciao Pongo eccolo qua che si riposa al fresco grazie grazie mille grazie a lei salve grazie a lei